A Pesevia questa mattina la tre giorni dedicata al turismo rurale onorefiere, che fino a domenica 8 ottobre permetterà ai visitatori di conoscere proposte turistiche legate ai cammini, al turismo equestre e ciclabile, al benessere al turismo enogastronomico nell'Italia centrale, con un occhio attento soprattutto a quelle aree interne che stanno risollevandosi dai danni al turismo provocati dal terremoto dello scorso anno. Saranno molti anche momenti di approfondimento aperti a pubblico e gli incontri tra operatori per approfondire le tematiche legate al turismo responsabile e sostenibile nei suoi diversi aspetti.